Salve a tutti, qui di Vuschevi Parla e vi da il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. I veterani di Destiny, coloro che presero in mano il titolo Bungie sin dagli albori della saga, non potranno mai dimenticare la Volta di Vetro, ossia la bellissima location della prima incursione nella storia di Destiny. La Volta di Vetro, articolata struttura Vex, costruita su Venere, custodia a lungo i suoi misteri e le sue leggende, come quella del primo team di Guardiani che vi entrò tentando di carpirne i segreti. I nomi di Kabir, Pahanin e Praedit divennero familiari per gli appassionati di lore e non solo, così come la loro triste storia. In questo video, grazie alle nuove informazioni emerse con l'uscita della stagione dell'intramontabile, vi parlerò nel dettaglio della sorte di Praedit, Il Guardiano, prigioniero nel tempo. Per prima cosa è necessario capire cosa successe durante la prima spedizione alla Volta di Vetro. Come dicevo poc'anzi, ai tempi di Destiny c'erano stati rivelati i nomi di tre Guardiani facenti parte del team, ma ora abbiamo scoperto che in totale i Guardiani erano cinque. Citiamo a tal proposito il trionfo valore capitolo mirativo. E quando si tratta di allucinazioni, bene non lo è. La radio di Praedit gli parla, voci che sovrastano il rumore bianco. Vorrebbe che almeno una di quelle voci fosse familiare. Pahanino Taeko o Kabir. Andrebbe bene, perfino Mir. Questo stralcio di lore ci permette finalmente di capire chi fossero gli altri membri della spedizione nella Volta, oltre a Kabir, il quale sacrificò la sua luce per costruire il manufatto noto come Egida, atto a sconfiggere gli oracoli e la mente Vex denominata Templare, e Panin, che riuscì a sfuggire illeso dalla Volta, sentendosi sempre addosso al senso di colpa, c'erano anche altri due guardiani, ossia Taeko 3 e Mir, che altri non è che Asher Mir. Taeko 3, oltre ad aver ideato l'arma esotica di Destiny 1, Meteora Zen, ha anche giocato un piccolo ruolo in Destiny 2 durante l'assalto Kanto di Savatun. Avete presente la guardiana, che ci guida attraverso i meandri di Titano, e poi alla fine si sacrifica trasformandosi in un cristallo di energia del vuoto? Ecco, quella era Taeko 3, veterana della Volta. Vi era poi appunto lo scontroso, ma anche geniale Asher Mir, personaggio che abbiamo imparato a conoscere in Destiny 2, come guida sul pianeta Io e nell'assalto del Pyramidion. A quanto pare, Asher è da sempre parecchio interessato alla questione Vex, e questo interesse lo ha spinto ad avventurarsi sia nella Volta che appunto nel Pyramidion, dove tra l'altro perse un braccio poi sostituito con uno Vex. Quindi, ricapitolando, Kabir si immolò, Pahanin fuggì con il senso di colpa, gli altri due sopravvissero, e Praedit fu catturato e imprigionato dai Vex, i quali lo rinchiusero in una cella temporale, dove rimase rinchiuso fino al suo decesso o presunto tale. Il guardiano prigioniero tentò più volte di mandare un messaggio via radio, sfruttando le piccole finestre temporali tra un ciclo e l'altro della sua cella. A volte gli sembrò di captare la voce di Asher Mir, un'altra volta riuscì a mettersi in contatto con l'ignota Exo, e una volta mandò con successo un messaggio di SOS che venne captato dal nostro spettro. Da lì prese origine una piccola missione del primo Destiny, al termine della quale scoprimo i resti ormai consumati dal tempo di Praedit e ricevemo l'arma esotica dell'ignota Exo, a testimonianza del suo legame con le questioni Vex. Ma se il corpo di Praedit, a seguito del decesso dello spettro, ha cessato di esistere, la sua coscienza continua a fluire attraverso le linee temporali Vex. Praedit, nel corso della sua prigionia, apparentemente senza fine, ha visto una quantità incredibile di eventi, come ci viene riportato nel trionfo valore capitolo epistemico. Praedit è rimasto a guardare fuori dalla sua cella per un tempo che non saprebbe quantificare. Seduto all'interno, scruta l'esterno, ha visto innumerevoli linee temporali, impossibile stabilire quali siano reali. Vede spesso il viaggiatore, sebbene non riesca a percepirne la luce attraverso le sbarre. A volte è sospeso su una città così familiare da fargli male al cuore. A volte è sospeso in un cielo alieno, mentre forme sconosciute gli volteggiano attorno. Spettri di fattura ignota. Il guardiano prigioniero ha visto anche il frammento del viaggiatore che si è staccato e poi schiantato nella zona morta europea sulla Terra, quel frammento da cui abbiamo attinto potere nel corso della campagna di Destin 2 Base. Vede anche i suoi ex compagni di avventure, Kabir e Panin, rivevendo ricordi di un passato ormai perduto. E qui Paraedit pianse, commosso da quel passato che ormai aveva perso per sempre. Ed ecco poi comparire Mercurio, mondo ormai totalmente convertito dai Vex, che porta i segni dell'azione della macchina, distruggi i sistemi solari del Dominus della Legione Rossa, alias Gaul, colui che guidò i Cabal alla conquista del viaggiatore. Ma non solo Gaul, Paraedit vide anche altri nemici della luce che avanzano nel sistema solare partendo dai margini. Alcuni vengono descritti come baldanzosi e pronti alla conquista con tanto di standardi e pitture di guerra, potrebbero essere caduti. Altri invece si muovono come se fossero inseguiti da qualcosa nel buio galattico. Bungie ha da sempre stuzzicato la curiosità degli appassionati circa il fatto che i Cabal fossero in fuga da qualcosa di oscuro, che quindi conquistassero per scappare. Chissà. Ma a proposito di oscurità, Paraedit ha scorto qualcosa di profondamente allarmante in una delle sue visioni, che viene così descritta. Alcune linee temporali sono coperte come da un drappo, un'oscurità così fitta da essere impenetrabile. Rifiutando lo sguardo di Paraedit, vi resistono. L'arrivo dell'oscurità sembra quasi essere sempre ineluttabile, a un certo punto arrivano, secondo il guardiano prigioniero. In ogni linea temporale alla fine arriva sempre qualcosa attratta dal viaggiatore stesso, il suo antico nemico. E qua la menzione ovviamente alle piramidi sembra quasi obbligatoria. Ma Paraedit naturalmente sperimenta anche diverse visioni sui Vex, e i Vex appunto sono i protagonisti assoluti di tale visione, ci mancherebbe. Per esempio vi ho già parlato delle differenze tra i Vex canonici e quelle del Giardino Nero, tema su cui tra l'altro avremo altro da dire. Paraedit si sforza di comprendere il legame tra il tempo e i Vex, e citiamo a riguardo il trionfo volontà, capitolo atelico. Descrivi il tempo, dico davvero, prova. Stai per dire qualcosa su una sequenza di eventi, giusto? Usa pure le tue metafore, una linea, un loop, un cerchio, una volta un tale, una volta un tale l'ha paragonato all'acqua. Originale se non altro. I Vex sono le entità più prossime a comprenderlo, e sono anche le più distanti da esso. Se il tempo è il fiume, noi siamo i pesci e loro gli uccelli tuffatori. Che cosa significa bagnato per un pesce? Cosa significa per un falco pescatore che non si fa mai ingannare dai riflessi sulla superficie dell'acqua? La metafora è indubbiamente molto evocativa. I Vex concepiscono il tempo come noi esseri umani non riusciremo mai a fare, dice il Guardiano. Paraedit dice che noi viviamo nel tempo, come il pesce vive nel fiume, mentre i Vex usano il tempo come fa invece l'uccello pescatore. I Vex si spostano lungo le linee temporali, le studiano, e poi simulano tutti gli scenari possibili per capire come agire nel modo più corretto. A volte incontrano ostacoli, un qualcosa che non riescono a simulare, come ad esempio la luce e l'oscurità, ma ciò non li ferma. Loro proseguono imperterriti verso i loro obiettivi, con la loro esistenza scannita dall'uso dei flussi temporali. I Vex sono quindi invincibili, visto che è considerato che quasi comprendono e padroneggiano il tempo? Bungie è sempre stata molto vaga in materia. Io ho sempre dato fede a questo semplice assunto. Se i Vex fossero realmente imbattibili, beh avrebbero già vinto. In tutta questa lore, già belle e articolate di per sé, giocano un ruolo anche i ricercatori del collettivo Ishtar, alias il centro di ricerca venusiano che verso la fine dell'età dell'oro condusse importanti ricerche sui Vex. L'equipe del Dottor Shim cercò di entrare nella rete Vex, connettendosi alla mente di un Vex, finendo poi intrappolata in molteplici realtà parallele. Predit osserva la squadra del Dottor Shim in azione vedendo varie copie, fino a oltre 200 copie, appunto della sua equipe che si sposta in vari flussi. La lore di questa squadra è abbastanza affascinante, ma anche abbastanza complessa, ragione per cui non posso esplorarla nel dettaglio in questo video, se no non finiamo più e il video stesso comincia a trasformarsi in una linea temporale a sé stante. Insomma ragazzi, grazie alla stagione dell'intramontabile e al povero Predit prigioniero nel tempo, abbiamo ricevuto una massiccia quantità di informazioni sui Vex, che comunque continuano a rappresentare un bel enigma. Ma del resto, ciò fa parte del loro indiscutibile fascino. Come ho già accennato, torneremo a parlare dei Vex del Giardino Nero in un prossimo video, quando nella modalità Invasione Vex affronteremo la mente intramontabile e chissà, magari ne parleremo anche prima. Bene ragazzi, come al solito vi lascio con un paio di domande. Quale visione di Predit vi ha colpito di più? E quale ruolo potrebbero giocare i Vex canonici, quindi non quelli del Giardino, nel futuro della saga? Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un mi piace al video, ad iscrivervi al canale, attivare la campanella se il video vi è piaciuto. Vi ricordo che potete trovarmi anche sui principali social, ossia Facebook ed Instagram, cercando Lorenzo Divus, e che poi seguino oltre anche un secondo canale, Lorenzo Divus 2, dove parlo di tutti altri argomenti più storici, misteriosi, ma anche di attualità. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!